Musica Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento di 7, la nostra rubrica che ci consente di ridare uno sguardo alle notizie salienti della settimana che si sta per concludere, cominciando da lunedì. Abbiamo parlato di turismo, Federalberghi dice sì alla tranvia ma no a nuovi aumenti della tassa di soggiorno, intanto nei primi sette mesi dell'anno si registra un aumento del 3% delle presenze nelle strutture alberghiere. Sono dati incoraggianti quelli di Federalberghi relativi alle presenze negli hotel di Prato e provincia. Mincia, secondo la principale organizzazione nel settore turistico ricettivo, rappresentativa di circa l'80% delle strutture nella provincia pratese, si è registrato un incremento del 3% dei turisti nei primi sette mesi dell'anno rispetto al 2023. La percentuale di turisti stranieri è del 63%, mentre i turisti italiani sono il 37%, dato che, conferma il traino nazionale della clientela straniera, a cui sottolinea Federalberghi, andrà dedicata sempre maggiore attenzione, vista anche la più alta capacità di spesa. Il ricavo medio è di 89 euro, non paragonabile ovviamente alle grandi città d'arte, ma in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. La clientela, come è facilmente immaginabile, è prevalentemente business, con il 67% delle presenze. L'occupazione del mese di agosto è per ora del 51%, destinata comunque a crescere. Il report di Federalberghi Prato arriva a rischiarare l'orizzonte dopo il quadro a tinte fosche disegnato dal rapporto IRPET, che dava Prato in fondo alla classifica toscana relativa alla crescita del turismo e in merito al quale ConfCommercio aveva manifestato le proprie preoccupazioni. Anche Federalberghi, al pari dell'associazione che rappresenta i commercianti, si augura che venga fatto un lavoro di squadra per aumentare l'attrattività di Prato e accoglie di buon grado la costituzione di una DMO, Destination Management Organization, al quale sederanno i principali players del settore turistico. Federalberghi paventa l'aumento preannunciato dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio dei Ministri e vede con favore il progetto della tramvia. Infine, Federalberghi auspica che vengano sviluppati sempre più eventi come concerti e rassegne cinematografiche, specialmente in bassa stagione, dove gli albergatori pratesi continuano a soffrire un importante calo di occupazione. In martedì vi abbiamo offerto gli aggiornamenti sulla morte del 19enne, il cui corpo è stato trovato domenica sera in mezzo alla strada, in via delle Badie. In particolare, martedì vi abbiamo dato la notizia che le indagini sono indagini di omicidio nei confronti di ignoti. Quello che nelle prime ore sembrava un suicidio adesso è diventato un omicidio nei confronti di ignoti. Proseguono le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Prato per la morte del 19enne trovato senza vita sul selciato della strada in via delle Badie domenica sera. Questo pomeriggio alle 15 è iniziato l'esame autoptico del corpo. L'incarico è stato affidato alla dottoressa Luciana Sonnellini e occorreranno 60 giorni per i risultati. La famiglia del ragazzo, che si è affidata all'avvocato Tiziano Veltri, ha deciso di non nominare un consulente di parte per l'autopsia, riservandosi questa possibilità per il futuro. Da parte della Procura c'è il massimo riservo sul caso. Il corpo del giovane cinese è stato trovato per strada poco prima delle 23. Sul posto è giunta l'automedica, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Decesso che, secondo le prime ipotesi formulate dai carabinieri in base alle lesioni riscontrate sul corpo, sarebbe da imputare ad una caduta dall'alto. Secondo alcune ricostruzioni, sembra che il 19enne si trovasse a casa di un connazionale la sera della tragedia e che sia precipitato da lì un'abitazione all'ultimo piano di un piccolo condominio di tre piani di Via delle Badie, nella zona di Grignano. La notizia non ha però ricevuto conferme ufficiali. Sempre martedì un'altra notizia di cronaca, botte e minacce di morte, doppio arresto per maltrattamenti in famiglia. Riguardiamo il servizio. Due arresti della polizia ieri per maltrattamenti in famiglia. Il primo intervento è avvenuto alle 12.30 nella zona delle Badie, dove un uomo di 59 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato dopo aver picchiato e minacciato di morte la moglie. Mentre l'uomo ha aperto la porta di casa ai poliziotti, ribadendo loro le intenzioni omicide nei confronti della consorte, la donna ha riferito che il marito la malmenava quotidianamente ormai da tempo. Da qui la decisione di arrestarlo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel secondo caso, alle 18, l'allarme è partito da madre e sorella di un uomo con a carico precedenti specifici per maltrattamenti. Entrati nell'appartamento di famiglia, gli agenti hanno trovato l'uomo intento a proferire minaccio di morte nei confronti delle due donne. L'arrestato non si è fermato neppure di fronte ai poliziotti, minacciati a loro volta, e il quadro a suo carico si è appesantito al termine di una perquisizione che ha permesso ai poliziotti di rinvenire alcune cartucce da guerra. Inevitabile l'arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia pubblico ufficiale e possesso di munizioni di guerra. I due uomini sono stati tradotti nel carcere della Dogaia. Abbiamo parlato anche di economia, in particolare di cassa integrazione, perché ci sono richieste in aumento di oltre il 30% rispetto agli anni passati. Le richieste di cassa integrazione ordinaria e le richieste di FSBH, che ricordo è l'ammortizzatore sociale per le aziende artigiane, sono arrivate già prima della chiusura feriale e quindi continuano a permanere in una situazione di difficoltà, di incertezza e di difficoltà nel gestire una crisi che, come diceva Giusti ieri, ha delle sue specificità. Nel senso che oramai è un anno e mezzo che vediamo difficoltà nel distretto manifatturiero più importante del tessile italiano, potrebbero protrarsi senza una prospettiva certa o comunque abbastanza raggiungibile nel corso dei prossimi mesi. Ci aspetta un autunno veramente, veramente difficile. A proposito delle richieste di cassa integrazione a cui faceva riferimento, cosa dicono i dati? I dati dicono di un utilizzo molto, molto, molto maggiore rispetto ad anni precedenti, eccezione fatta del Covid, che chiaramente furono anni, il 20-21, particolarmente difficili, però nella regolarità dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale vediamo che nel corso del 2024 sono state richieste aperte, tante richieste di utilizzo, sia della cassa integrazione ordinaria, sia dell'FSBA, come dicevo, in periodi che fondamentalmente non affrontavano problematiche del genere, perché erano i periodi in cui il distretto manifatturiero aveva la capacità produttiva al 100%, a volte non raggiungendo il 100% ma addirittura superandolo. Si parla a livello generale di un 30-40% di utilizzo in più della cassa integrazione rispetto agli anni precedenti, nel primo semestre del 2024. Probabilmente bisogna andare oltre quelle che sono le attuali durate degli ammortizzatori sociali, penso particolarmente per quelle aziende all'artigianato che attingono al fondo FSBA, che hanno un limite a 26 settimane, sono 130 giorni lavorativi effettivi, in un biegno, quindi vuole dire circa 6 mesi ogni 2 anni di utilizzo, quindi diventa un ammortizzatore molto molto debole in questo caso. Chiaramente siamo agli sgoccioli a Prato, nel senso un ammortizzatore appositamente creato per il distretto, si rischia grosse difficoltà. E poi le belle notizie, quelle che riempiono il cuore, come l'oro olimpico della ciclista Vittoria Guazzini, che martedì ha ricevuto l'omaggio del suo comune, quello di Poggio Accaiano. È sempre bello tornare a casa, era da tanto che non passavo, perché appunto ero sempre su in pista a allenarmi e non vedevo l'ora di tornare e di stare un po' con i miei cari e festeggiare. Riconoscimenti al valore atletico, un mazzo di fiori e uno struscione che va da parte a parte di Via Cancellieri in suo onore. Il comune di Poggio Accaiano, alla presenza del delegato Coni Massimo Tahiti, di omaggio alla sua campionessa Vittoria Guazzini, oro olimpico nel Madison in coppia con Chiara Consonni. Tante le emozioni legate a quella medaglia conseguita al termine di una gara sofferta. Sì, è veramente stata un'emozione grandissima, penso che sto iniziando a realizzare ora perché i giorni subito dopo la vittoria sono stati molto caotici, però veramente è stato qualcosa di indescrivibile, le Olimpiadi hanno tutto un altro valore. È stato bello sapere che da casa veramente tanti italiani ci hanno seguito, questo ci ha riempito il cuore di orgoglio. Che gara è stata? È stata una gara sofferta? Sì, siamo partiti veramente forti sin dall'inizio, la prima parte magari eravamo un po' sotto tono, però poi ci siamo riprese e avevamo a tutti i costi una medaglia dopo un po' la delusione del quartetto e niente, avere l'oro è qualcosa di incredibile. Poi condividere questa emozione con Chiara, che è una delle mie migliori amiche, rende tutto ancora più speciale. È stata una grande emozione poi quando ci siamo ritrovati allo stadio per celebrare la fine dell'Olimpiade e vedere tanti campioni intorno a noi che magari fino a prima vedevo solo in televisione e mi sono detta che ho vinto anch'io l'Olimpiade. Adesso che cosa ti aspetta? Quali altre gare e quali altri sfide? La stagione è ancora lunga perché ci sono ancora i campionati europei su strada, i mondiali sia su strada che in pista, quindi un po' di giorni di recupero ma poi bisogna pensare alla fine della stagione perché bisogna lottare fino all'ultimo e penso che al mondiale in pista vogliamo un po' riscattarci da questo quartetto che non ha preso la medaglia alle Olimpiadi. Il sindaco Riccardo Paandri e l'assessore Piero Baroncelli sperano di avere guazzini durante una delle serate dell'assedio alla Villa e se non fosse possibile organizzeranno comunque per lei una festa nel mese di ottobre. Abbiamo cercato appunto di portarla qui in comune per festeggiare tutti insieme purtroppo è agosto quindi insomma non possiamo portare tanta gente cercheremo prima possibile di fare un'altra festa, un evento speriamo anche durante l'assedio alla Villa possa partecipare perché per noi è la festa proprio della città, quindi anche della sua città quindi intanto godiamoci questo momento e godiamoci questo oro olimpico insomma ecco. Nel Tg di mercoledì un servizio a due settimane dall'incendio scoppiato al poligono di Galceti che è costato la vita a due persone mentre le indagini della procura vanno avanti per accertare eventuali responsabilità su un altro versante la fondazione Parsec di cui fa parte anche il centro di scienze naturali ha contribuito a stilare la conta dei danni a flora e fauna nell'area del parco del Monteferrato attorno al poligono di tiro. I danni considerevoli si estendono su circa un'area di 5-6 ettari un ettaro dei quali più che altro operativo i danni maggiori sono quelli che hanno coinvolto gli alberi naturalmente che già sappiamo sono sofferenti sul Monteferrato e abbiamo fatto una prima stima sono bruciati circa 250-300 pini è difficile distinguere tra quelli che erano già sofferenti, già secchi e quelli che sono bruciati come alberi in buone condizioni alcuni cipressi, alcuni allori, alcuni lecci però ecco ho bruciato un sottobosco che sicuramente come tutte le zone del Monteferrato ha un suo pregio perché in quel sottobosco si ritrovano essenze floristiche che sono presenti, sono endemici al Monteferrato sono presenti soltanto appunto nella zona del Monteferrato però è un sottobosco che reagirà presto e in modo del tutto naturale a quello che è stato l'incendio, a quelli che sono stati i danni. L'area, lo ricordiamo, è chiusa al pubblico in seguito a un'ordinanza del Comune che interventi saranno necessari e che tempi occorreranno per restituirla alla città? Sì, allora il Comune darà incarico a dei professionisti per capire appunto cosa è possibile fare certamente nei primi mesi è bene lasciare andare, direi io, il sottobosco in modo che si riprenda in modo naturale come sappiamo laddove ci sono gli incendi il sottobosco fa presto a recuperare C'è il problema degli alberi pericolanti perché tutti questi pini che sono bruciati e che appunto avevano già dei problemi di stabilità in alcuni casi ora ne hanno di più e quindi è necessario nelle prossime settimane intervenire in un'area che è già recintata di suo, anche se la rete in alcune zone è stata tagliata per accedere proprio per l'antincendio però ecco c'è un'ordinanza che vieta di entrare in quell'area proprio per preservare, per evitare che qualcuno possa incorrere nella caduta di un albero ricordo gli apparati radicali in alcuni casi sono bruciati che danni se cade può fare Saranno piantati nuovi alberi, se sì, che tipo di piante? Quello di Monteferrato è un SIC, cioè un sito di interesse comunitario che è particolare e protetto più per alcune essenze floristiche del sottobosco che per i suoi boschi, anzi i suoi boschi sono boschi artificiali prevalentemente a pino marittimo e piantati nella seconda metà dell'Ottocento pochi sono i cipressi naturali e spontanei, pochi sono i lecci qualche alloro che da arbusto è diventato alberello però ecco, se prendiamo in considerazione quella che è la natura del luogo lì alberi e boschi non ci devono stare o comunque devono essere isolati e permettere a quelle che sono le vere essenze, i veri tesori del nostro Monteferrato di riprendere aria, riprendere luce, riattecchire, ridiffondersi come erano diffuse prima appunto della plantumazione del bosco di due secoli fa Dunque sicuramente non altri pini Non altri pini sicuramente Ferragosto nel segno della tradizione a Prato con il rito dell'ostensione della Sacra Cintola riguardiamo allora il servizio andato in onda venerdì realizzato da Giancarlo Gisonni A Prato Nel giorno di Ferragosto, solennità dell'assunta la comunità si stringe attorno alla reliquia mariana simbolo della città, la Sacra Cintola In questo giorno si tiene la terza ostensione dell'anno e anche quest'anno il rito si è ripetuto nella Basilica Cattedrale di Santo Stefano Nonostante il caldo sono stati tanti i fedeli che hanno preso parte al rito preseduto dal Vescovo Giovanni Nerbini presente una emozionata all'area Bugetti alla sua prima ostensione da sindaca di Prato accompagnata dal gonfalone del comune la comproprietà delle tre chiavi necessarie per aprire il cofano dell'altare che contiene la reliquia condivise tra il comune e la diocesi evidenzia da sempre la valenza civile e religiosa della Sacra Cintola Mariana che anche stavolta è stata mostrata ai fedeli per tre volte all'interno e all'esterno del Duomo L'emozione l'avevo già accennato ma è veramente tanta perché senti il momento l'importanza del momento, la sacralità del momento e un grande ringraziamento a tutti quei cittadini che erano oggi lì presenti una chiesa piena e tante persone anche fuori quindi è un bel saluto di tutta la città nella giornata del Ferragosto L'effetto fa vedere la piazza dal pulpito? È difficile descriverlo però è molto molto bello, ti toglie quasi il fiato La prossima ostensione della Sacra Cintola sarà l'8 settembre Madonna della Fiera, la festa della città E come ormai da qualche anno succede Ferragosto significa anche apertura straordinaria serale del Museo di Palazzo Pretorio A fine giornata sono stati 352 visitatori totali di cui ben 319 solo in serata quando il Museo Cittadino ha fatto la sua apertura fino a mezzanotte a ingresso libero Ferragosto al Museo è notturna, come accade da qualche anno anche stavolta al Museo di Palazzo Pretorio ha aperto le porte a visitatori in orario serale dalle 21 fino a mezzanotte ad ingresso libero E ancora prima dell'apertura si è formata come vedete alle mie spalle una lunga fila davanti all'ingresso del Museo di Palazzo Pretorio Vediamo un attimino cosa ci propongono a Prato di queste cose cioè spero sia una cosa interessante e bella È la prima volta? Sì, è la prima volta, sì, sì, sì Quando siamo qua per Ferragosto si viene sempre a vedere il museo, la terrazza, sì Dunque avete già approfittato di questa opportunità altre volte? Sì, sì, proprio per questo ci si ritorna perché comunque è bello, bello proprio vedere il tutto È la prima volta, abbiamo visto un posto in cui abbiamo visto che era aperto stasera e abbiamo approfittato essendo qua in città Cosa vi aspettate? Ma noi era da un po' che volevamo venire a vedere questo museo Io sono originaria di Firenze quindi non so bene che cosa aspettarmi a questo museo e vedremo ecco Qual è la prima volta che viene? Anni fa sono venuta quindi ne approfitto dato la giornata particolare Per vedere queste straordinarie opere d'arte ma anche il panorama sulla terrazza Ora ci saranno le scale, sarà un po' duro arrivare su, però vale la pena penso Un'opportunità in più per ammirare da vicino la straordinaria collezione del museo che racchiude gioielli di inestimabile valore e che racconta la storia di Prato come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi ma non solo e poi la possibilità di godere il suggestivo panorama dalla terrazza del pretorio Una serata di Fragosto Alternativa per farsi un selfie su questa bellissima terrazza panoramica Sì è sempre un piacere, è un bellissimo panorama, è già il secondo anno che veniamo qua Io e una mia amica e quindi sì è sempre molto emozionante vedere tutto a Prato, una città molto amata Con la famiglia qui a vedere il museo? Sì, è la prima volta che si sale a vedere, anche se si sta a Prato da anni, però purtroppo oggi è la prima volta Vi piace? Sì, troppo Cosa vi è piaciuto di più? Guarda qua, si vede quasi tutto il centro di Prato Abbiamo la storia di Prato, ma in questo momento è possibile visitare anche la personale di Tamagnini che sarà aperta fino al 9 di settembre Poi ovviamente c'è il panorama dalla terrazza panoramica che è sempre molto gradito ai visitatori e richiama un buon flusso Abbiamo anche un descritto aumento di turisti stranieri, soprattutto dall'Europa e questo ci fa molto piacere perché vediamo che la città e il museo sono sempre più apprezzati e scoperti I turisti che visitano il museo cosa dicono al termine della visita? Rimangono veramente meravigliati perché non si aspettano di trovare un museo così bello così ben progettato, quindi è una soddisfazione anche se non dipende esclusivamente da noi, ma è bellissimo davvero, è una bella soddisfazione Uno dei protagonisti della storia che vi abbiamo raccontato nel Tg di venerdì lo avete visto anche nel servizio dell'ostensione di Ferragosto si tratta del volontario della VAB Marcello Ramalli che è stato scelto come testimone dell'ostensione dell'assunta e che sempre per Ferragosto ha salvato la vita da un uomo che si era sentito male per strada L'intervento è stato possibile grazie anche alle conoscenze di primo soccorso che Ramalli aveva da qui il suo appello a tutti i cittadini affinché le imparino Quando si dice trovarsi nel posto giusto al momento giusto è proprio quello che è successo a Marcello Ramalli, volontario della VAB molto attivo sul territorio, che ieri per Ferragosto si è trovato a dover fare appello a tutto il proprio sangue freddo e a mettere in atto le conoscenze di primo soccorso Davanti ad un supermercato di Maliseti ha sentito le grida di una donna che cercava di attirare l'attenzione dei passanti sul marito che accanto a lei al tavolino di un bar improvvisamente aveva smesso di rispondere agli stimoli Ho pensato che la persona potesse essere rimasta con un boccone bloccato nelle vie respiratorie mi sono avvicinato, ho controllato che fosse tutto libero gli ho preso il polso per sentire un attimino com'era e a quel punto lì sentendolo molto flebile e dopo qualche secondo la persona ha perso conoscenza ha perso conoscenza e a quel punto l'ho preso sotto le braccia, l'ho steso in terra è arrivato subito il direttore del CONAD al quale gli ho chiesto di prendere il defibrillatore è arrivato il defibrillatore, intanto nel frattempo ho cominciato le manovre di rianimazione naturalmente era già stata avvertita l'ambulanza il 118 ho cominciato le manovre, abbiamo attaccato le piastre del defibrillatore e poi a quel punto lì ha fatto una scarica abbiamo continuato il massaggio cardiaco per alcuni minuti e poi piano piano la persona si è ripresa L'anziano è stato successivamente preso in carico dal 118 e si trova adesso in rianimazione ma le sue condizioni sono stabili un intervento provvidenziale reso possibile anche dalle conoscenze che il ramale aveva delle manovre di rianimazione e dell'uso del defibrillatore semiautomatico uno strumento che si trova in molti spazi pubblici sul cui uso vengono organizzati tanti corsi anche sul territorio per ora però frequentati solo da alcune categorie di cittadini Invito veramente tutti a fare questi corsi e a prendere appunto un po' di pratica che poi è difficile perché un conto è lavorare sui manichini e un conto è lavorare sulle persone e soprattutto dal punto di vista anche emotivo non è così facile però bisogna provarci perché comunque è sempre una vita umana e quindi riuscire a salvarla è qualcosa che triempie il cuore di gioia E sabato, nell'anniversario della morte di Francesco Datini la città ha reso omaggio a uno dei suoi più illustri pratesi Sono trascorsi 614 anni dalla morte di Francesco Di Marco Datini mercante uomo d'affari tra gli illustri pratesi che hanno fatto la storia dell'economia di quel tempo Era infatti il 16 agosto 1410 quando Datini si spense nella sua casa pratese lasciando il suo patrimonio alla città e ai più bisognosi e gettando le basi per la costituzione dell'odierna Casa Pia dei Ceppi e per l'ospedale degli Innocenti di Firenze Oggi, nel giorno delle Ezequies è celebrato il tradizionale momento di commemorazione alla presenza delle autorità cittadine La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona di fiori sotto la statua che Antonio Garella eresse nel 1896 in Piazza del Comune, appena restaurata dall'amministrazione che ritrae il mercante mentre porge il proprio testamento ai poveri Oggi è una giornata importante perché appunto questa celebrazione cade in un anno importante il 2024 in cui il Comune di Prato è riuscito nell'intento di restaurare questa meravigliosa statua in Piazza del Comune, la statua del Datini e per me e per noi, per l'amministrazione comunale è emozionante poterlo fare oggi in questo nuovo scenario Oltretutto il 2024 è anche un anno importante perché il Palazzo Petrolio ha seglato un accordo con Casa Pia dei Ceppi, la Casa Ratini per rafforzare la collaborazione e l'iniziativa quindi penso che appunto la celebrazione di oggi possa essere un po' un nuovo inizio che parte da una figura così importante per la nostra città Come consuetudine è seguita la celebrazione della messa presso la chiesa di San Francesco che ospita la tomba del Datini Nel giorno della commemorazione anche la notizia anticipata ieri a TV Prato dalla presidente della Fondazione Casa Pia dei Ceppi intervenuta nel Tg dell'inizio dei lavori in primavera al tetto di Palazzo Datini un intervento atteso da tempo e possibile grazie anche alla regione toscana e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato La Fondazione comunque promuove tutto l'anno una serie di eventi, una programmazione culturale proprio in memoria di Francesco e Margherita Datini presso il museo che ha sede proprio nel Palazzo e in collaborazione con altre istituzioni culturali importanti a Prato come l'Archivio di Stato e il museo di Palazzo Pretorio quindi ci rivedremo a settembre il primo appuntamento sarà proprio il 7 di settembre quando faremo un'apertura in notturna aperta a tutti i cittadini ci saranno delle visite guidate gratuite e proseguiremo poi per tutto l'autunno quindi vi invitiamo a seguirci nei nostri canali social perché vi daremo via via tutte le informazioni anche per laboratori sia rivolti ai bambini sia rivolti agli adulti visite guidate a tema e percorsi particolari e con questo è tutto grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti